L'appoggio è per Astori, ancora la Fiorentina, 4 minuti di recupero, in piena sofferenza, un cross da tre quarti dalla destra, attenzione, la palla arriva dall'altra parte per Chiesa, Chiesa che cede la palla ancora per Diraghe, prova il tiro, la palla deviata, resta in area, aiuto, aiuto, Simeone, il tiro, il gol! Al minuto 91 il gol della Fiorentina, al minuto 91 ha segnato Simeone, con un gioco di rimpalli di Flipper, siamo stati molto sfortunati qua, non si può dire che la Fiorentina non avesse cercato, però l'ha trovato in maniera molto casuale, devo dire. Il cross per Chiesa, Chiesa l'appoggio all'inghietro, poi c'è un tiro di Badel, guarda qua, la palla deviata due volte e poi arriva direttamente sui piedi di, arriva direttamente su un giocatore della Fiorentina che l'allunga per Simeone, che è lì a Eseric, che l'allunga per Simeone, solo davanti alla porta, di chi c'è da sbagliare da lì, 1-1. Allora, cosa abbiamo detto? Lì non abbiamo chiuso con Candreva, ce la dobbiamo pentire, sì, ce la pentiamo veramente, perché la Fiorentina ci riprende al 91esimo.